Poco prima di andare a dormire, Sophie e Jukas fumano un'ultima sigaretta in veranda. A raggiungere i due concorrenti è Biagio, che pronto a dirigersi verso la stanza arancione per mettersi a letto, dà alla modella numerosi baci. Questa cosa non lascia affatto indifferente l'illusionista che dice basta un bacetto, invitandolo ad allontanarsi con inistenza. L'opinionista a questo punto inizia ad ironizzare sul gesto fatto dicendo che è una tradizione pugliese e, di proposito, continua a dare vari baci alla ragazza lasciando perplesso il VIP. Una volta rimasta sola con Jukas, Sophie abbraccia l'illusionista e afferma «Tu mi proteggi». I due, nel corso di questa esperienza, hanno instaurato davvero un bellissimo legame e questa ne è proprio la prova. Vi piace il legame che si è instaurato tra Jukas Casella e Sophie Codegoni? Scrivetelo nei commenti!